Quando si parla dei giovani d'oggi, molto spesso alcuni cadono in alcuni stereotipi, descrivendoli come giovani menefreghisti, giovani superficiali, poco attenti al mondo, poco attenti alle cose. Ma in realtà questa non è la verità. Sono tanti, tantissimi i giovani che hanno molto da dire e anche da insegnare. Vediamo come. L'idea di questo progetto è nata con la volontà di rispondere ai tanti realti che imperversano in televisione, con la differenza che mentre in questi realti è la persona che vuole dare mostra di sé, noi vogliamo dare la possibilità a un ragazzo invece di aiutare gli altri e di tornare con un arricchimento interiore che secondo noi è molto importante per la vita del ragazzo stesso, della persona stessa. I ragazzi devono avere un'età dai 20 ai 30 anni, chiaramente la volontà di viaggiare e di aiutare il prossimo e se devo iscriversi sul sito ovviamente e fare un piccolo video in cui presentano se stessi e in cui parlano delle loro motivazioni, non ci sono altri requisiti. Quest'anno abbiamo ricevuto oltre 3.000 iscrizioni per arrivare ai 20 precandidati che faranno il campus di formazione qui da noi alla Caritas. È stata una risposta incredibile, non ci aspettavamo anche perché abbiamo fatto una minima promozione solo sui social network ed è arrivata veramente una risposta molto importante che ci dà anche speranza perché quei ragazzi che noi, che la gente dice essere dei bamboccioni che non si vogliono impegnare in realtà hanno dato una risposta incredibile e vogliono mettersi diciamo in gioco e aiutare gli altri con tutto il cuore. Insomma abbiamo capito che voi siete tutt'altro che bamboccioni perché insomma ci vuole coraggio, tenacia per poter fare questa esperienza. Tu Arianna perché sei partita? Io sono partita perché penso che in parte è quello che mi piace fare, io sono laureata in servizi sociali, eseguo un corso magistrale in servizi sociali, ero già stata in Africa in un'esperienza precedente. E questa volta invece sei andata in missione dove? Nelle Filippine, a Manila. Com'è stato lavorare ed essere vicino ai bigliosi? È stato bello perché poi penso quando vivi queste realtà ti adatti facilmente alla realtà del luogo, per quanto possa essere strano, possa sembrare difficile, invece è molto facile adattarsi, è più difficile riadattarsi a tornare qua. Ma che cosa facevi esattamente? Io stavo in un orfanotrofio, una casa nata nel 2010 questa, sia per bambine orfane che vittime di maltrattamenti e abusi, quindi le storie che poi girano all'interno della casa sono le più disparate, però durante la giornata vivevo con loro, quindi ci alzavamo dalla colazione ai compiti, alla scuola. Dove dormivi esattamente? Io dormivo con loro, nella stanza con loro, loro sono 22 bambine attualmente e stanno cercando di aumentare questi posti letto perché comunque c'è bisogno e c'è bisogno tanto perché le slam poi riversano di miseria e povertà, quindi c'è ancora molto bisogno in realtà. Giorgio, tu invece dov'eri? Io ero in Kenya, Nairobi, e io sono partito con, anche mi hanno affiancato all'associazione Amani. L'associazione Amani è un'associazione no profit che è sede legale a Milano e si occupa di affermare per l'appunto i diritti dei bambini di strada, anche sostenere delle case di accoglienze a Nairobi, in Kenya, in Zambia e in Sudan. E qual è il tuo lavoro? Sono partito con i campisti, Amani forma ogni anno una serie di campisti, sono partito con loro e le giornate le passavamo semplicemente facendo varie attività con i bambini, dal gioco a una lezione. Mi sono divertito, semplicemente a tutti coloro che mi domandano cosa ho fatto un mese, rispondo mi sono divertito. Ti sei divertito lavorando poi, no? Certo, perché la sera... Veramente rimboccandosi le maniche, aiutando concretamente. Inoltre la sera, a differenza degli altri, degli altri campisti mi ritagliavo un minimo di tempo per scrivere e raccontare il tutto tramite il portale che avevamo noi quattro. E te Eugenia, dov'eri? Io ero a Calcutta, in India, in un orfanotrofio delle suore, delle suore della Providenza. E niente, lì come anche Arianna vivevo la giornata con le bambine, perché era un gruppo di bambini di 45, bambine dai 3 ai 15 anni e quindi insomma a età diverse, periodi anche dalla vita diversi. E niente, le seguivo un po' facendo i compiti, le accompagnavo a scuola, mangiavamo tutti insieme e poi insomma la notte preghiera e poi si andava a dormire. Però, come in ogni reality che si rispetti, c'erano delle telecabere che insomma erano quelle un po' fai da te, mi sembra di capire, perché eravate voi che vi riprendevate, funzionava così? Noi riprendevamo loro, almeno per quanto mi riguarda. Funzionava così, però voi eravate poi in contatto tramite i social? Noi praticamente avevamo questa, una sorta di piattaforma dove pubblicavamo ogni sera... Ogni giorno i nostri racconti, le sensazioni che ci avevano colpito maggiormente, ciò che c'era accaduto insomma. Funzionava come una composizione di immagini e magari anche video, insieme a un piccolo racconto della giornata, di qualcosa che ci aveva colpito. Ma, lo dicevamo, a partire a luglio scorso sono stati in quattro e allora, signore e signori, Karen Sampo, che è la quarta moschettiera di questa avventura, che è in collegamento. Karen, mi dici esattamente dove sei? Sono a Città del Capo, in Sudafrica. In Sudafrica, ma che stai facendo? Loro sono tornati a casa, tu perché sei ancora lì? No, io sono tornata l'anno scorso dal Mozambico e poi sono ripartita a marzo per venire in Sudafrica. E come mai sei ripartita? Quel periodo non ti è stato sufficiente per vivere tutto quello che avevi dentro? Ma, diciamo che è stato un inizio, che vorrei che continuasse, una nuova strada, diciamo. Quindi mi sono di nuovo messa in discussione, ho avuto la possibilità di venire qua. Adesso sono volontaria in un'organizzazione locale di Città del Capo, in mezzo ai bambini di alcune township di Città del Capo e lavoro con loro. Che esperienza è quella che stai facendo, Karen? In cosa consiste questo tuo lavoro, la tua quotidianità? Com'è? Ma è abbastanza tranquilla, serena, nel senso che sono veramente libera di scegliere che attività fare. Posso andare nelle scuole a fare attività di yoga con i bambini durante la scuola, piuttosto che fare attività di orticoltura o piuttosto che passeggiate il fine settimana in questi paesaggi. Ci sono dei posti bellissimi qua a Città del Capo e niente, semplicemente vivere nella semplicità insieme a loro, sperando di trasmettergli qualcosa di buono. Torno da voi ragazzi, perché dopo un'esperienza di questo tipo, nel reality in genere ci si dimagrisce, si comincia a piangere, invece voi vi vedo insomma tutt'altro che con le lacrime agli occhi. È passato qualche mese. È passato qualche mese bene, quindi vi siete ripresi. Che cosa vi siete portati davvero a casa? Come vi ha cambiato questa esperienza, se vi ha cambiato? Eugenia, inizio con te. A me una cosa che è rimasta impressa e che mi hanno insegnato un po' le ragazze, soprattutto le più grandi, è stata la forza che hanno, incredibile, di riuscire a trasformare questa rabbia, questa ansia che hanno, perché vengono tutte da situazioni molto difficili, chi è stata trovata insomma in stazione a mendicare, chi viene da villaggi lontani, per cui parla anche un'altra lingua. Insomma, mi hanno insegnato il fatto di riuscire a trasformare questa energia, questa rabbia in qualcosa di positivo. Quindi in una grinta, mettersi a studiare, cercare di trovare una via d'uscita. Quindi questo è molto. Questo. Te, Giorgio? Come ha detto Eugenia, sono i ragazzi dell'Africa che hanno insegnato a me particolarmente una spiritualità che noi qui non abbiamo. Soprattutto appunto tramite questo viaggio ho avuto una maggiore coscienza interiore di me stesso e quindi diventa più facile il rapporto con l'altro, l'incontro, una volontà di incontro che prima non avevo. E oltre a questo una serie interminabile di ricordi il cui solo pensarci ovviamente mi emoziona. Arianna, per te cosa è cambiato dopo tutto questo? Sembra banale, però a me veramente mi hanno insegnato a ridere. Cioè, ma ridere di cuore. Hanno una leggerezza, una voglia di fare che è disarmante perché pensi, ecco come diceva Eugenia, tutte le storie che hanno vissuto sono per noi incredibili. Invece loro la vivono con leggerezza, la vivono la giornata con la forza e l'allegria allo stesso tempo che ti riempiono, ti riempiono la vita. Quindi, un'esperienza molto bella, ma c'è stato un momento di difficoltà, un momento in cui avete pensato, ma chi me l'ha fatto fare? No, magari ecco, ti rendi conto che hai più resistenza di quanto pensavi, nel senso, ma parte il caldo terribile, però magari anche la doccia col secchio dici, non ce la farò male, o dormire in una stanza con insetti non esiste. Poi alla fine però sei tanto stanca, sei tanto anche, sì, felice di tutto quello che hai fatto durante la giornata che non te ne frega niente. Questo passa a noi, vedo che Giorgio ride, immagino in che condizione eri anche tu. No, no, ma alla fine c'era tutto, però come ha detto Eugenia, alla fine della giornata non ti importa di nulla se non le emozioni che hai provato. Ma come vogliamo concludere? Che cosa vi sentite di consigliare a chi appunto vuole intraprendere questa avventura così speciale? Qual è il tuo Giorgio? Il mio consiglio è proprio godersela fino all'ultimo, ogni minimo giorno, perché non ricapita più, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Affidatevi, buttatevi, cioè proprio divertitevi. Oh ma deve essere proprio bello, c'hai le stelline negli occhi per come lo racconti. Allora Arianna, anche a te l'ultima battuta per salutarci. Ma io per i prossimi che partiranno, ecco, il consiglio è quello di vivere, io ero partita con molte aspettative, invece bisogna partire tranquilli, perché poi ogni cosa viene da sé e come dice Giorgio, quello che si vive poi rimane sempre, rimane oggi, domani, sempre. Insomma, ragazzi, grazie per questa testimonianza, mi sembra di capire che è un viaggio non soltanto geografico, dal punto di vista geografico, ma soprattutto un viaggio del cuore. Quindi grazie ancora per quello che avete fatto e per quello che state testimoniando.